A Castelvetrano i carabinieri effettuano un arresto e ritrovano piante di canapa. Da lunedì in distribuzione i kit per la differenziata nella zona Mazzara 5. Via le dirigenze e 12 funzionari gestiranno i settori del comune di Castelvetrano. Disagi nella distribuzione idrica nei quartieri Tonnarelle e Trasmazzaro. Doppio senso di circolazione nella galleria Segesta sulla A29. Gigi Di Biagio plaude all'iniziativa dell'Oscar dello Sport. Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg8 Informazione. Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. Nel pomeriggio di domenica 26 agosto i militari dell'aliquota radiomobile hanno tratto in arresto Carmen Ciancimino, 25enne, originaria di Ribera, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine. La donna, seppure sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Sciacca, è stata trovata presso l'abitazione del compagno, residente a Castelvetrano, nella via Campobello. L'arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza di questo comando, in attesa di rito direttissimo svoltosi nella giornata di ieri, e in occasione del quale è stata riconfermata a suo carico la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Nella mattinata di ieri, a Castelvetrano, i militari del dipendente NOR, nell'ambito di un'attività di iniziativa finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà la procura della Repubblica di Marsala, un 45enne cuoco, soggetto noto agli uffici giudiziari, che è stato trovato in possesso di un vaso dal diametro di 40 cm circa, con all'interno tre piante di canapa indiana della dimensione di un metro circa ciascuna. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Doppio senso di circolazione all'interno della Galleria Segesta nella canna in direzione Trapani, sulla A29 Palermo-Mazzara. Il provvedimento partirà da lunedì 3 settembre e sarà necessario per procedere alla chiusura della canna in direzione Alcamo, all'interno della quale saranno attivati i cantieri per l'apertura dei bypass di collegamento tra le due gallerie. Il doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Trapani rimarrà in vigore fino alla metà del mese di dicembre, quando tutto il traffico, in entrambi i sensi di marcia, verrà provvisoriamente spostato in quella in direzione Alcamo per completare l'abbattimento dei diaframmi dei bypass. A Castelvetrano sono stati resi noti i nominativi dei nuovi funzionari comunali che avranno la responsabilità di gestire i settori dell'ente. Nei giorni scorsi avevamo anticipato della nuova pianta organica del Comune di Castelvetrano. La Commissione Sordinaria aveva approvato una delibera che prevedeva l'eliminazione delle dirigenze, erano rimasti soltanto in due negli ultimi tempi, e l'approvazione di una suddivisione in 12 servizi nel quale sono stati suddivisi i settori dell'ente. Di fatto, questi 12 funzionali sostituiranno le figure dirigenziali ormai scomparse. Ecco le nuove direzioni organizzative e irresponsabili. Gli affari generali, programmazione e sviluppo andrà lì a Mazzara, servizi culturali e sportivi Mariella Morici, servizi al cittadino Loroidana Bruno, servizi demografici Michele Grimaldi, lavori pubblici e patrimonio Alessandro Graziano, servizi a rete Danilo Larrocca, urbanistica Daniela Lucentini, edilizia e attività produttive Michele Caldarera, servizi ambientali Bartolomeo Livigni, programmazione finanziaria e risorse umane e gestione delle risorse Mariano D'Antoni, tributi Marcello Caladonna, polizia municipale Incenzo Bucca, staffa Bocatura Francesco Vasile. Salta all'occhio l'assenza di Giuseppe Barresi e Andrea Di Comoda, questa griglia. Se per Barresi era quasi scontato, vista l'imminente messa in quiescenza, appare sorprendente che il dirigente, che per oltre 12 anni ha retto le sorti del settore finanze, sia con i sindaci Pompeo e Errante, che nella gestione commissariale, e che da più di un anno aveva ricoperto l'interim in mai lavori pubblici, appunto Andrea Di Cuomo, non è presente tra le nuove figure apicali. Scelta personale o declassamento? La nuova struttura organizzativa, come si legge nella delibera, consentirà la riduzione strutturale della spesa, iva inclusa quella del personale, ed assicurerà il buon funzionamento dell'ente, rendendo la macchina organizzativa di fatto più flessibile. Si passerà da quattro settori a 12 direzioni organizzative, azzerate le cariche dirigenziali. Il risparmio derivante dalla soppressione delle dirigenze ammonta a 295.986 euro. A detto importo si aggiungono 131.989 euro, che sono le somme necessarie per pagare le posizioni organizzative ricavate dal Fondo Salario Accessorio e non più dal bilancio. Rimane il dubbio se si sia fatto un passo in avanti o l'ennesimo passo indietro per un comune che darà forse eccessivo potere decisionale ai nuovi funzionali. Saranno pronti a gestirlo? Il sindaco di Salemi si dimette dalla segreteria regionale del PD. Quello che è successo negli ultimi mesi, specie durante e dopo l'Assemblea nazionale del 7 luglio scorso, ha fatto emergere con prepotenza la causa della sconfitta clamorosa alle elezioni del 4 marzo. Una sconfitta profondamente politica, più che elettorale, di un gruppo dirigente inadeguato che ha perso via via il contatto con il territorio e con i problemi della gente per ripiegarsi definitivamente su se stesso e sulle faide interne, che purtroppo sono diventate l'unica vera ragione dello stare insieme. E questo è un brano della lettera che il sindaco di Salemi, appunto, Domenico Venuti, ha scritto al segretario regionale del PD, Fausto Raciti, comunicandogli senza polemiche le proprie dimissioni da componente della segreteria regionale da commissario del PD di Marsala. Le sconfitte, aggiunge il sindaco, fanno parte della vita, ma una battuta d'arresto come quella subita imponeva l'apertura di una riflessione seria e costruttiva per una ripartenza convincente, in grado di recuperare il rapporto con la base del PD e con la società. L'ufficio Aro di Mazzara rende noto che da lunedì 3 settembre la distribuzione dei kit di raccolta differenziata per la zona 5 di prossima attivazione, ma anche per quanti non lo avessero ritirato per le zone 1, 2, 3 e 4, dove il sistema della differenziata è già attivato, avverrà presso il centro comunale di raccolta di via Marsala di fronte alla Lidl. Viene quindi spostato il luogo di consegna dei kit dal Palazzetto dello Sport al CCR di via Marsala. La distribuzione avverrà dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Si ricorda sempre che i mastelli non hanno alcun costo e che il mancato ritiro non esenta dall'obbligo di effettuare la raccolta differenziata. Possibili disagi idrici nelle zone di Tonarelle e Trasmazzaro. L'ufficio idrico comunale rende noto che a causa di un guasto all'impianto elettrico dei pozzi di Ramisella si potrebbero verificare dei disagi nell'erogazione idrica di entrambe le zone. L'Enel sta già intervenendo per risolvere il guasto di media tensione. Appena terminati gli interventi di riparazione si auspica entro le prossime 24 ore i pozzi torneranno a funzionare e l'erogazione idrica sarà ripristinata normalmente. Il nostro santo si presenta come colui che vuole indirizzare e orientare il cammino di questa città e lo vuole fare unendo tutte le sue energie. E' questo uno dei passaggi del consueto messaggio alla città che il Vescovo Monsignor Domenico Mogavero ha pronunciato al termine del festino di San Vito di quest'anno. Sentiamo. Il nostro santo si presenta come colui che vuole indirizzare e orientare il cammino di questa città e lo vuole fare unendo tutte le sue energie significative, diverse ma senza distensione di appartenenza in un cammino comune di ricerca verso una meta che ci faccia convergere verso un'esperienza condivisa. Questo uno dei passaggi del messaggio alla città che il Vescovo Monsignor Domenico Mogavero ha pronunciato al termine del festino di San Vito dopo la direzionale processione a mare del simulacro d'argento a bordo del motopesca Giuseppe Schiavone il Vescovo ha parlato alla città rendendo omaggio a San Vito che è stato un campione di umanità. Ma vediamo dalle immagini tratte da condividere TV le fasi più salienti del discorso del Vescovo Mogavero. Ecco, il nostro Santo ci si presenta questa sera come colui che vuole indirizzare e orientare il cammino di questa città e lo vuole fare unendo tutte le sue energie tutte belle tutte significative tutte estremamente diverse senza distinzione di censo, di cultura di appartenenza, di fede in un cammino comune di ricerca verso una meta che tutti ci faccia convergere verso una esperienza condivisa di umanità. abbiamo sperimentato che le acque di questo mare sono acque che uniscono sono acque che conducono verso una meta comune sono acque che ci hanno presentato momenti di calma ma anche momenti di ondeggiamento e di barcollamento tutti abbiamo camminato abbiamo navigato con un intento comune quello di rendere omaggio a un campione di umanità. È stata avvistata questa mattina a Castelvetrano una delle auto che Google utilizza per realizzare e aggiornare le mappe che ritroviamo su Google Maps l'applicazione che tutti conosciamo e utilizziamo su smartphone e PC per muoverci durante per esempio le nostre vacanze è stata immortalata di passaggio nella via Campobello a Castelvetrano. La fondazione Ferrovie dello Stato italiana e la regione Sicilia hanno messo sui binari un ricco programma di treni storici e turistici che percorreranno le linee ferroviarie più suggestive e panoramiche della Sicilia. Il servizio. La fondazione Ferrovie dello Stato Italiano e la regione Siciliana hanno messo sui binari un ricco programma di treni storici e turistici che percorreranno le linee ferroviarie più suggestive e panoramiche della Sicilia. La proposta segna un ulteriore passo avanti nell'opera di valorizzazione delle linee turistiche siciliane e delle bellezze storiche e paesaggistiche. I 23 itinerari proposti battezzati treni storici del gusto percorreranno le più belle zone della Sicilia e consentiranno di vivere un'esperienza di viaggio originale riscoprendo scorci e passaggi che rappresentano le meraviglie dell'isola. Direttamente dal finestrino di una carrozza degli anni 30 la Sicilia scorrerà davanti agli occhi accompagnando il visitatore in una sorta di viaggio nella memoria. La millenaria Trinacria si rivelerà in tutta la sua bellezza. Nelle giornate del 21 ottobre e del 18 novembre infatti è previsto il treno dell'olio del pane nero lungo la tratta Palermo-Casselvetrano-Salinunte. Nelle giornate del 14 e 28 ottobre del 2 dicembre è previsto il treno dei sapori di tonnare dei prodotti della terra Trapani-Casselvetrano-Salinunte. Rispetto alle stagioni precedenti una delle novità più rilevanti sarà l'abbinamento al treno storico con la gastronomia dell'isola. I viaggiatori potranno degustare sia a bordo trena che a terra piatti e prelibatezze della cucina siciliana partecipando a sagre manifestazioni culturali eventi a carattere enogastronomico organizzati nei vari comuni attraversati dalla linea ferroviaria. Tanti quindi ingredienti e punti di interesse di questo programma messo a punto dalla Fondazione FES e dalla Regione all'insegna di una nuova filosofia del viaggio e del turismo slow che lascia a casa la velocità e la fretta per concentrarsi sulla qualità e sul dettaglio dell'immenso patrimonio storico e naturalistico. Il progetto è stato redatto dall'assessorato regionale del turismo sport e spettacolo ed è realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovia dello Stato e Slow Food Sicilia utilizzando il finanziamento del programma operativo POFES Sicilia 2014-2020. In rete è possibile rintracciare il calendario di tutti gli eventi e scoprire i dettagli di ogni singolo evento navigando sul calendario dei viaggi in treno storico. La conferenza stampa del sindaco di Marsala Alberto di Girolamo di domani 31 agosto si terrà nella sala conferenza del complesso San Pietro e non più a Palazzo Uffici. La decisione del cambio della location è dovuta a motivi logistico organizzativi. Confermato l'orario d'inizio cioè le ore 11. il sindaco di Girolamo nella qualità di coordinatore dell'accordo di co-marketing per l'aeroporto presenterà la procedura aperta suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze. Peraltro proprio domani 31 agosto il bando verrà ufficialmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana. Alla conferenza è prevista la partecipazione degli altri sindaci della provincia dei deputati dei componenti del Consiglio dell'Aergest e di esponenti del settore turistico. Nella seduta di ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala preseduto da Enzo Sturiano ha proceduto all'approvazione all'unanimità dell'atto deliberativo riguardante le modifiche e le integrazioni al regolamento IUC componente Tari in pratica con questa delibera l'assise di Palazzo 7 Aprile ha dato il via libera all'amministrazione di Girolamo per l'applicazione della legge Gadda contro lo spreco alimentare. Nella stessa seduta è stato anche esitato favorevolmente a maggioranza un ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri per l'implementazione dell'utilizzo delle compostiere. Ad inizio lavori il Presidente anche a nome dell'Aula ha espresso solidarietà alla consigliera Linda Licari fatta oggetto sui social di offese e insulti molto pesanti. si tornerà in aula lunedì prossimo 3 settembre per cominciare a discutere sul piano triennale delle opere pubbliche. Il commissario tecnico dell'Under 21 Gigi Di Biagio è stato premiato nel corso della manifestazione Oscar dello Sport e lo abbiamo intervistato. Sentiamo. Arriva un Oscar un Oscar sicuramente che va a significare quanto lavoro hai fatto in tutto questo tempo soprattutto nell'ottica del futuro della nazionale italiana. Sì intanto un saluto a tutti quanti e un ringraziamento a Pietro soprattutto in Gargiola che mi ha rincorso perché purtroppo i nostri impegni non ci permettono di poter presenziare a manifestazioni così belle come quella che stai facendo oggi quindi un ringraziamento doveroso e è un piacere essere qua. Il premio è di sport con la speranza che stia facendo qualcosa di buono con questi giovani soprattutto per il rilancio del nostro movimento in questo momento un po' in crisi quindi che dire un momento piacevole tra amici in un posto meraviglioso e quindi adesso il bello dovrà venire perché mi hanno detto che ci sarà una serata molto molto emozionale molto bella. Futuro immediato continua a guardare i giovani naturalmente da portare in nazionale. è il mio lavoro la mia missione è quello di cercare qualcosa di nuovo di essere a supporto a Roberto Mancini per cercare di riportare il calcio nel posto italiano nel posto che merita noi con le nostre under ci stiamo riuscendo perché dall'under 15 alla 21 quello che stiamo facendo è veramente importante adesso la speranza è che possa servire da supporto immediato per la nazionale il Rotaract sezione di Mazzara del Vallo domani venerdì 31 agosto alle 20 e 30 presso il collegio dei gesuiti a Mazzara del Vallo nella piazza Plebiscito organizza la serata ritratti di vino che prevede momenti di spettacolo e degustazione dove appunto il vino e l'arte saranno assoluti protagonisti per l'ingresso è previsto un ticket il cui ricavato sarà devoluto all'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare l'avvio del prossimo campionato di Serie D inizialmente previsto per il 2 settembre avrà inizio il 16 settembre al fine di tutelare le società partecipanti al campionato Serie D 2018-2019 campionato nel quale ci potrebbero essere ulteriori variazioni in attesa dell'esito delle decisioni del collegio di garanzia dello sport presso il CONI che si riunirà il 7 settembre e del Tardellazio che ha rinviato al 13 settembre l'udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Sant'Arcangelo di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato al 2 settembre mentre i 32esimi di finale verranno anticipati al 9 dello stesso mese confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di Serie D 2018-2019 gli stessi saranno ufficializzati giovedì 30 agosto e con questa notizia noi per oggi abbiamo concluso il nostro appuntamento con l'informazione su Teleotto che ritornerà puntuale domani alle ore 14 vi aspetto una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.